La giustizia russa ha confermato in appello la condanna a tre anni e mezzo con la condizionale nei confronti di Alexei Navalny, blogger e oppositore del presidente Putin. Navalny è ritenuto colpevole di frode e danni di due società, un processo con motivazioni politiche secondo Bruxelles. Attraverso il suo blog Navalny ha denunciato la corruzione delle élite russe.